Si arriva a dire che si fa l'ospedale a Domodossola di 250 posti e a Verbagna il riordino, cioè mantenendo i posti sostanzialmente attuali. In premessa, questo studio prevede e dice che c'è una forte mobilità passiva verso la Lombardia e che c'è una forte valenza turistica nell'area di Verbano in termini anche numerici. Ripeto, sembra essere presi per i fondelli e questo non è più accettabile nel merito e anche nel metodo che questa proposta venga addirittura fatta fare da un funzionario dell'IRES. Neanche avere il coraggio di dire che i cittadini di Verbagna, che sono anche scesi in piazza sabato e che stanno scontando una riduzione dei servizi perché sono quelli che si sono fatti più carico nell'ospedale Castelli alla lotta al virus, sono di serie B o C. Cioè torniamo a quanto era due anni fa. Morale, conclusione, finiremo tutti per non avere più un ospedale di riferimento anche per gli anni che ci vogliono a mettere in pratica questi intendimenti molto fumosi e quindi mentre da altre parti vedi Novara, vedi Cunio, vedi Alessandria, vi sono investimenti da noi si resta fermi. Non ha saputo rispondere l'assessore Cardi, sono arrivati 155 milioni dell'Inail e gli altri stanziati negli anni scorsi. Sostanzialmente è una mancanza assoluta di rispetto per questo territorio oggi definito difficile. L'aveva già detto sabato alla manifestazione, se fossero state portate avanti le proposte ventilate sarebbe stata pronta la battaglia? Due anni fa furono addirittura annunciate prima in televisione che ai sindaci, ai presenti da parte del presidente Cirio e dell'assessore Cardi, oggi l'abbiamo letto sul giornale tre settimane fa naturalmente noi ci attiveremo. In qualche maniera veniamo già da esperienze che ci hanno consentito di saper battagliare e di fare fino in fondo il nostro dovere a difesa di un servizio sanitario adeguato per la cittadinanza ma anche che abbia un senso per tutta la provincia. Quindi ci siamo sentiti con Luigi Motta che è il presidente dell'area del Verbano organizzeremo incontri, chiamerò le associazioni di categoria e tutti coloro che possono aiutare in questa battaglia che prosegue.